La fede vive di preghiera. La preghiera è l'atto eminente, anche se non esclusivo, della fede. Eminente vuol dire che in essa, nella preghiera, la fede si realizza senza ambiguità, perché la fede è un atto di affidamento, di confidenza nel Dio tre volte santo e la preghiera è il linguaggio di questo affidamento, è il gesto di questo affidamento. La preghiera, particolarmente la preghiera cristiana, è una preghiera che ha come protagonista il corpo, è una preghiera corporea, è fatta di gesti concreti. L'inginocchiarsi è uno di questi gesti. Il gesto non lascia mai le cose come prima, modifica la realtà e anche l'incontro con il Signore non lascia mai le cose prima, modifica la realtà. Tra tutti i gesti della preghiera l'atto dell'inginocchiarsi significativo, non è l'unico, ma forse è quello più difficile da comprendere immediatamente, soprattutto nella nostra cultura, in cui dall'illuminismo in poi l'uomo adulto e l'uomo emancipato è l'uomo che non si sottomette, ma è l'uomo autonomo, che osa sapere da sé e osa prendere delle decisioni libere e responsabili a partire da se stesso. Quindi forse è l'atto più difficile da esercitare, l'atto dell'inginocchiarsi, ma se si va alla Bibbia e quindi all'esperienza della rivelazione cristiana si scopre una cosa molto bella, che l'atto dell'inginocchiarsi è un atto liberante, libera dalla schiavitù dell'idolo, perché noi ci inginocchiamo soltanto davanti al Dio tre volte santo, cioè quello che ha creato la nostra vita, l'ha creata bella e buona e desidera custodirla in questa qualità di bontà e di bellezza. Noi ci inginocchiamo solo davanti a Lui, quindi siamo liberi dall'inginocchiarsi davanti ad altre potenze, quindi l'inginocchiarsi rende impotenti le prepotenze del mondo e libera la libertà dell'uomo. Difatti tutto inginocchi davanti a quel Dio che ti solleva su ali d'acquile, come dice l'Antico Testamento. Ma poi c'è una verità ancora più grande, noi ci inginocchiamo davanti a quel Dio che in Gesù si è inginocchiato davanti all'uomo, quindi ci inginocchiamo davanti all'umiltà di Gesù. Si è inginocchiato realmente Gesù davanti all'uomo facendosi uomo, ma soprattutto nei gesti dell'Evangelo scopriamo come colui che lava i piedi e il discepolo o per guarire gli ammalati si inginocchia davanti a loro, si inchina davanti a loro. Quindi noi ci inginocchiamo davanti a un'umiltà donata che ci precede e ci solleva, anche in questo caso ci guarisce, ecco ci libera dai nostri ripiegamenti. Quindi ad agio ad agio leggendo la Bibbia, guardando a Gesù, ai gesti di Gesù, scopriamo che l'atto dell'inginocchiarsi non è un atto di umiliazione o di mortificazione della libertà umana, ma è un atto di libertà. Quando inginocchiarsi nella preghiera cristiana? Durante la messa, nel tempo dell'adorazione, specialmente dell'adorazione caristica, negli atti penitenziali, nella liturgia di Lode? La storia ci tramanda che agli inizi i cristiani per lo più pregavano in piedi e con le mani alzate rivolte verso l'alto, perché è la preghiera del risorto, la preghiera del credente in Cristo Gesù. Ma non si è mai trascurato l'atto dell'inginocchiarsi, soprattutto nella prima forma della profonda prostrazione del corpo. Ancora oggi i monaci, ma anche in molte comunità cristiane che cantano le lodi di Dio alla dossologia, cioè la preghiera di lode trinitaria, che è gloria al Padre, ci si inchina profondamente. Sarebbe bello recuperare quest'atto dell'inchinarsi profondo, oppure anche quando si recita il credo e quando si fa memoria dell'incarnazione della crocifissione di Gesù e per opera dello Spirito Santo si incarnò nel seno della Beata Vergine Maria, fu crocifisso, morì e fu sepolto, si è invitati a inchinarsi profondamente davanti appunto al gesto dell'inchinarsi di Dio in Gesù presso di noi. Nella tradizione poi durante la messa ad esempio si è invitati ad inginocchiarsi, ma l'importante, quello che ci suggerisce la Chiesa è quello di compiere i gesti del corpo e assumere gli atteggiamenti e le posture del corpo insieme, che conta soprattutto nella celebrazione eucaristica è agire, agire col corpo, ma agire comunitariamente. Si è molto attenti alla situazione personale, per cui ci possono essere delle eccezioni, ma normalmente l'assemblea agisce insieme, si alza, si siede, ma anche si inginocchia. Certamente nel momento della preghiera eucaristica, soprattutto al momento dell'epiclesi, cioè dell'invocazione dello Spirito, quando la preghiera della Chiesa ci dice ora umilmente ti sopplichiamo di inviare il tuo Spirito su questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Cristo. Questo è il momento del profondo inchino, dell'inginocchiarsi, ma subito dopo c'è il momento del mistero della fede in cui si annuncia la morte vittoriosa di Gesù e la sua risurrezione ci si alza e soprattutto alla dossologia finale, al per Cristo con Cristo in Cristo, quando si canta l'amen. Ecco, nell'eucaristia i gesti seguono una sequenza armonica ordinata, hanno il loro ritmo e tutti sono importanti, nessuno è escluso, ma nessuno è l'unico e prende il monopolio escludendo gli altri. Certamente l'atto dell'adorazione eucaristica o il momento dell'adorazione eucaristica è il momento più propizio per la preghiera in ginocchio, sia nel caso dell'adorazione personale che dell'adorazione comunitaria. La Chiesa poi non solo invita ad inginocchiarsi, ad inchinarsi profondamente, ma invita in alcuni casi molto particolari anche alla prostrazione, a questo contatto con la nuda terra, quasi un gesto di abbandono totale nelle braccia e nell'abbraccio divino. Con tutto il cosmo noi siamo raccolti e sottomessi al mistero di Dio. Questo lo si fa nel Venerdì Santo, così si inizia la liturgia del Venerdì Santo e nelle preghiere litani, quando si canta la litania dei santi, nei riti di ordinazione e di professione religiosa, i voti definitivi. Sono momenti di consegna totale, così comprendiamo come preghiere dell'inginocchiarsi o del prostrarsi e atto di fede vanno insieme. Abbiamo richiamato il ritmo della preghiera cristiana, il ritmo corporeo della preghiera cristiana, questo è anche molto umano, è molto vicino alle nostre situazioni, capita nella preghiera normalmente di distrarsi o forse anche di assopersi. Ecco, il cambiamento della postura corporea ci permette di risvegliarci, ma anche di ritornare a riposare. È sapiente la liturgia che ci permette di vivere nella preghiera il ritmo e le esperienze della vita. La liturgia ha previsto tutto, anche il sonno da cui essere risvegliati. E vorremmo concludere con le parole del Santo Padre, che richiama l'importanza di questo gesto per la nostra vita cristiana. Chi impara a credere, impara a inginocchiarsi. Una fede che non conosce più l'atto di inginocchiarsi è ammalata in un punto centrale. Dove questo gesto è andato perduto, dobbiamo nuovamente apprenderlo, così da rimanere con la nostra preghiera nella comunione degli apostoli e dei martiri, nella comunione di tutto il cosmo, nell'unità con Cristo stesso. Per questo il piegare le ginocchia e la presenza di Dio vivo è irrinunciabile. Grazie a tutti.